Zanini con questa Bianchi full suspension, con queste sospensioni anteriori e posteriori e poi invece così questa Ballerini che attacca, Ballerini che attacca, Ballerini che attacca amici sportivi, siamo entrati nel settore di Pavè, numero 6, 229 km percorsi, quindi siamo a meno di 40 km dalla conclusione, Ballerini da solo attacca, straordinario Ballerini, sta rischiando tanto ma lasciatemi dire con una spalla allussata tre giorni fa, è straordinario, è straordinario, si è straordinario, sai io però la ragione, io ho sempre paura e quando si fanno queste azioni a 38 km dall'arrivo e con due compagni che possono darti un aiuto per portarti ancora più avanti, beh in effetti io l'avrei ragionato diversamente, però... Franco ma non c'è nessuno, sono due minuti più indietro e dopo quattro anni di attesa finalmente se la può godere, questa è la sua Paris Girobe, chiedo alla regia se possiamo alla fine della gara portare al nostro microfono Franco Ballerini o se dobbiamo cedere subito la linea, non si può, allora seguiamo le pedalate conclusive di Franco Ballerini e godiamoci questo giorno, è una pagina importante del ciclismo, è un giorno che io credo rimarrà nella storia del nostro sport e su questa pagina c'è scritto il nome, Franco Ballerini esplode, esplode letteralmente il velovo ma anche queste ultime pedalate non chiede di un metro, si alza e va a conquistare la sua Paris Girobe, amici sportivi, Franco Ballerini e lo diciamo con orgoglio, ha un giro dalla fine, vince la Paris Girobe, può alzare, quello il brazzo di volta non c'è nessuno, bravo Franco, bravo, bravo, bravo e non smette di pedalare, non c'è nessuno ancora in pista, tutto il velodromo è per lui, per questo ragazzo che ha inseguito per tutta la vita questa vittoria, ha inseguito per tutta la vita questa corta che sembrava per lui stregata e quest'oggi questa corta la vince, ultima curva e Franco Ballerini conquista alla grande con coraggio, con tenata questo irriducibile lago del Pave che finalmente vince la Paris Girobe, non c'è nessuno in pista, è grandissimo il vantaggio che ha, alza tutte e due le braccia e vince, spavano i tifosi alle nostre spalle e Roubè finalmente, e di Franco Ballerini sport, non si crede nemmeno lui quest'oggi ma ha vinto Beppe, un commento finale velocissimo. Eh guarda, è difficile per me commentare questa vittoria, io con Ballerini ho un amicinio che si sta riportando nella scia del primo quartetto, vediamo che scatta Chmil, maglia rossonera per Chmil, lo affianca all'interno Musseo, maglia bianca, ripetiamo questo dello sprint per il secondo posto, eccoci con il testa a testa tra Musseo che si piazza a secondo, poi Chmil, poi Iechi.